Ciao a tutti ragazzi e ben trovarli sul mio canale YouTube da Simone Pasqua. Fabio Gallo, secondo il nostro presidente e padron Stefano Bandecchi, sarà l'allenatore della prossima stagione delle Fere, in attesa di finire questa e di capire come andrà questa stagione, anche se lui personalmente ha rinunciato al contratto del prossimo anno. Secondo Bandecchi, in un'intervista che ha rilasciato in questi giorni, sarà proprio lui a guidare la Vernana nel prossimo anno, nonostante i dubbi da parte dei tifosi sulla coppia Gallo-Leone e con moltissimi che sostenevano che uno dei due doveva lasciare la Vernana. Quindi a questo punto è tutto in discussione, ovviamente non si sa se Fabio Gallo sarà il nuovo allenatore delle Fere anche per il prossimo anno, come non si sa quale futuro per la nostra Vernana, come ho già detto precedentemente, non si sa neanche se si giocherà la finale di Coppa Italia e se riprenderà il campionato oppure se si congelerà la classifica attuale. Insomma, siamo in mezzo ad una crisi di dubbi, ma è anche normale vista l'emergenza Covid e visto il calcio che è fermo. Per quello che riguarda, potrebbe essere Gallo l'allenatore della prossima stagione. Per quello che riguarda, potrebbe essere Gallo-Leone della prossima stagione. Per quello che riguarda, potrebbe essere Gallo-Leone della prossima stagione.